Ok, allora, buongiorno a tutti, buonasera, e questa tematica di stasera, questo flusso del pensiero, mi è venuto quando ho visto in una video, in un giornale, cioè in un giornale online, del fiume Ghyange, e mi è apparso che il fiume scorre estremamente veloce, e a volte nella nostra, nella Brahma Kumari, si dice che i nostri pensieri sono come fiumi, che noi siamo come i Ghyange, che è un fiume che scorre molto facilmente, molto velocemente, e noi forse non siamo veramente consapevoli di cosa succede quando i nostri pensieri escono dalla nostra testa, insomma per dire, no? Cioè noi abbiamo un pensiero e cosa avviene in quel momento lì? Allora, visto che il pensiero ovviamente non si vede, forse pensiamo che il pensiero si evapora come un fumo, qualche cosa così, ma di fatti non è la realtà. E guardando questo video sul Ghyange, mi sono detto guardate un attimo, cioè questo fiume scorre e tutto a lungo al tragitto del Ghyange fa un lavoro, cioè innaffia i campi, provvede acqua, permette un sacco di cose, cioè un fiume è sempre vita in qualche modo. E mi sono reso conto che il mio pensiero fa così, cioè il mio pensiero non si spegne, non si chiude dal momento che è uscito dalla mia testa per andare in movimento, no? rimane sospeso nell'aria e crea un'atmosfera, crea un'opportunità per certe cose che avvengono. E mi piaceva, era quasi una forma di meditazione, se vogliamo, dove sentivo il fiume del mio pensiero innaffiare i campi di pace, non ovviamente di acqua, di pace, eccetera, e dare sostegno a tutti coloro che vivevano intorno al fiume o intorno ai miei pensieri e dare sostegno a questa pace, buoni auguri, eccetera. E a volte quando succedono delle cose, come se abbiamo letto i giornali, io ho un'amica che vive a Tel Aviv, quindi vedo le bombe, cioè immediatamente il mio pensiero si sconvolge, dice chissà come sta, insomma, che succede lì giù. E abbiamo sempre un senso di, quasi di impotenza, no? Perché siamo qui, loro stanno lì, che si può fare? E forse ci viene spontaneo di pensare, ma se hanno bisogno di qualche cosa potrei mandarlo, però, insomma, è sempre più complicato di quello che uno pensa. E mi sono reso conto che una delle cose che possiamo effettivamente fare è ammandare buoni auguri, pensieri di pace, pensieri di tranquillità, pensieri positivi, che possono essere raccolte dalle anime come gocci di acqua in una terra che si è prosciugata, no? E quindi c'è qualche cosa con il nostro pensiero che possiamo fare, e sembra così inaspettato, no? Ma è una bella realizzazione di rendersi conto che uno può comunque fare qualche cosa anche solo col pensiero. E questo ovviamente è un'energia che proviene dal cuore, lo fai per buoni auguri, lo fai veramente perché vuoi bene alla gente, hai buoni pensieri per loro. E quindi vedevo questo fiume che scorreva. E mi sono reso conto che, di fatti, non è che parliamo molto, molto spesso della dinamica del pensiero. E tutto quello che noi vediamo, tutto quello che io ho qui, per esempio la mia penna, ha iniziato con un pensiero. L'unica cosa che non proviene dal nostro pensiero sono per esempio i fiori che ho dietro alle spalle. Questi fiori crescono, sono un'energia per conto loro. Ma chiunque abbia delle piante in casa sa che per farle crescere bene ci vuole di più dell'acqua solo. La pianta ovviamente ha un bisogno materiale fisico di acqua, ma può crescere in un modo splendido se gli viene dato una certa attenzione. Se tu vuoi bene alla pianta. E mi ricordo una pubblicità che c'era in Francia, all'epoca in televisione, di una persona che aveva piante in casa e che parlava. Quando innaffiava le sue piante, parlava alla pianta. E mi ha sempre colpito come sendo una cosa molto naturale. non è che tutti lo fanno ad alta voce ovviamente, però se noi vogliamo bene alla pianta molto certamente cresce meglio. E uno dei motivi per la quale per esempio le piante spesso hanno difficoltà a vivere per esempio in una camera di ospedale è che per definizione una camera di ospedale è un posto dove probabilmente c'è sofferenza e la pianta percepisce questo e quindi fa fatica a crescere. Ci sono posti, cioè le piante assorbono quello che noi possiamo emettere e di fatti le piante capiscono quello che noi emettiamo. Mi ha colpito enormemente una fiera, una di queste fiere spirituali in Inghilterra tanti anni fa e c'era una mostra di piante e queste piante, cioè le persone che stavano lì in quella parte della fiera perché era abbastanza grande, facevano ogni tanto delle dimostrazioni e le piante erano collegate con degli altoparlanti se vogliamo erano connessi all'elettricità eccetera e questa elettricità, questi apparecchi traduscevano la reazione della pianta e le persone parlando, avendo un certo atteggiamento con la pianta provocavano come un canto ed era la pianta che creava questo, cioè questa è la dimostrazione se vogliamo, che la pianta sentiva i nostri pensieri e uno può anche sostenere, almeno così spiegavano, una pianta a distanza, cioè non è che hai bisogno di essere accanto a lei per fare questo, lo percepisci benissimo e a un certo punto una delle persone si è indirizzato verso una pianta con un coltello in mano, con l'idea di tagliarli una parte e la pianta si è messa a gridare, quindi era molto evidente che la pianta percepiva quello che la persona diceva o ovviamente pensava e è stato una, questo era molto prima dell'Abraham Kumaris, cioè io non ero nell'Abraham Kumaris in quel momento ed era molto convolgente, cioè insomma molto interessante e sono i russi ad aver fatto questo tipo di esperimenti, quindi le piante percepiscono le nostre vibrazioni e se tu le connetti in un certo modo ti restituiscono la loro reazione, ciò che fanno ovviamente gli animali, per esempio, l'animale percepisce benissimo la tua vibrazione o di amore o tu gli fai paura e quindi ti ringhi addosso e quindi tu sai che c'è una percezione che avviene, quindi non possiamo fare altro che accettare questa verità e vedere qual è la qualità di quello che io mando in onda con i miei pensieri ed è molto, di fatti, è molto importante e ovviamente questo flusso può innaffiare campi cioè può innaffiare di pace e di bontà come dicevo prima ma forse non controllo sempre i miei pensieri quindi sto mandando a volte quando ci penso buoni pensieri e a volte mando qualche cosa che è forse meno positivo e se noi immaginiamo che tutto questo avviene con tutti quanti, cioè non c'è nessuno che non manda in onda dei pensieri, diciamo la nostra città è coinvolta completamente dal pensiero di tutti quanti in qualche modo e ci sono dei momenti quando tutto questo accumulo di pensiero se è negativo per qualche motivo o l'altro è abbastanza diciamo sconvolgente cioè non è che ti sostiene non è che ti rende felice e quindi vi sono detto che era molto importante guardare veramente come funziona il pensiero e quindi noi possiamo immaginare che il pensiero scompare quando noi l'abbiamo emesso non lo vediamo più sta più nella nostra testa arriva a un altro pensiero pensiamo che l'altro sia scaduto e di fatti no continua c'è un effetto e quindi le persone percepiscono il pensiero ed ecco perché possono avere delle delle reazioni dobbiamo stare molto attento che il nostro parlare e il nostro pensare sia uguale perché la differenza tra queste due energie se io dico una cosa che non è quello che la vibrazione che emane da me sta dicendo la gente è un po' si mette a distanza e cerca di capire perché c'è un divarico tra quello che io dico e quello che loro sentono da me c'è una vibrazione o c'è anche forse un linguaggio del corpo perché il linguaggio del corpo parla moltissimo e ci sono specialisti per questo io non sono specialista però tante cose noi lo percepiamo lo stesso se qualcuno si mette davanti a noi si mette così con le braccia così uno può immaginare non cambierà molto facilmente idea non so è un'idea che ho e ci sono degli atteggiamenti fisici che ci fanno pensare in questo modo e non è cioè uno può essere specialista cosa che io non sono però insomma c'è da dire e tutto quello che noi abbiamo è stato creato dal pensiero che dopo di che è stato sviluppato e quindi è uscito fuori qualche cosa di utile per esempio una bottiglia per bere quindi il coinvolgimento del pensiero a livello creativo è immenso allora fino a che punto il mio pensiero è veramente creativo e c'è in in India una cosa che noi abbiamo un po' considerato perché era molto faceva proprio parte del lavoro nostro e che hanno scoperto una cosa hanno fatto una cosa che si chiama l'agricoltura yogica allora i contadini che sostengono questa forma di agricoltura meditano sui semini prima di seminare quindi loro le mettono in un vaso e ci meditano sopra quindi quando è il momento le piantano e vanno poi nei campi a meditare su queste piante ogni giorno quello che è ci vanno i gruppetti stanno lì molto tranquillamente seduti a meditare e poi il campo ovviamente viene innaffiato e trattato come da solito ma hanno avuto dei risultati sorprendenti semplicemente meditando su le piante cioè sono cresciuti più velocemente sono cresciuti più sani c'è stato molto evidentemente un enorme successo con quello e vedevano che tanti fertilizzanti e tutte queste cose forse non erano manco necessarie e quindi si sono resi conto cioè e questo adesso diventa una cosa in India molto abbastanza conosciuta e l'India ovviamente è il paese della meditazione quindi chiunque si mette a fare questo lo può fare e è una bellissima cosa e quindi i pensieri sono la parte più forse unica di noi cioè possiamo vedere due gemelli per esempio che se sono identici è difficile discernere l'uno fra l'altro sembrano uguali e invece questi due gemelli se uno le conosce sa che non pensano uguali in nessun modo sono veramente individui anche se a livello della DNA cercando si potrebbe pensare che sono molto molto simili quindi il pensiero è ciò che ci fa distaccare veramente da tutti quanti e il nostro pensiero trasporta anche tutte le nostre esperienze cioè c'è la memoria e quando penso un po' alla memoria mi rendo conto che guardandomi nello specchio da bambina avevo certi pensieri guardandomi nello specchio adesso non è che non mi riconosco ma riconosco più che altro il mio pensiero il mio modo di pensare il mio il mio sé ma il mio sé non è il volto perché il volto è super cambiato è da non capire e ho fatto questa esperienza con vari amici con chi mi ero conosciuto noi ci siamo conosciuti quando ero giovane molto giovane abbiamo lavorato insieme mi ricordo un caso dove noi non ci siamo visti per più di vent'anni forse trent'anni e poi siamo tornati in contatto e facevo fatica a riconoscere l'altra persona talmente lui era cambiato talmente lui era cambiato e sapevo che era lui cioè il mio intelletto sapeva che era lui mi facevo molto fatica a far combaciare quello che io sapevo di lui e quello che io vedevo adesso e a un certo punto mi sono se vogliamo mi sono distratta e ho visto in le sue mani che aveva una maniera di parlare che era sempre molto dinamico molto espressivo con le mani e di colpo tutta la memoria mi è tornata con un dettaglio che sembrava non particolarmente importante e mi è tornato e mi è tornato veramente tutta la comprensione di quanto noi ci siamo voluti bene all'epoca quando lavoravamo insieme ed era solo in quel momento lì quando l'ho riconosciuto quindi il riconoscimento non è tanto il volto ma qualche cosa di forse molto più sottile il modo di esprimersi il modo di parlare le esitazioni fra le parole che hanno molto a che fare più con diciamo l'anima perché l'anima evolve ma non scompare non cambia l'anima va da una vita all'altra e rimane se stessa ma ovviamente facendo esperienze nuove eccetera quindi c'è un'evoluzione e quindi era bellissimo fare questa esperienza e rendermi conto che non c'era veramente necessità che non cambiassimo cioè possiamo tranquillamente cambiare perché c'è qualche cosa in noi che non cambia ed è il nostro la nostra natura se vogliamo la nostra natura di base così come la gente ci ha conosciuto così c'è sempre qualche cosa che rimane e questo mi ha fatto in qualche modo molto molto piacere e poi i pensieri sono anche un frutto di qualche cosa di molto più profondo hanno molto a che fare con una sorgente che sarebbe delle attitudini nelle atteggiamenti nelle memorie nelle connessioni che facciamo le percezioni che abbiamo un modo di essere che è basato sulle esperienze che noi abbiamo fatto nella nostra vita e tutte queste cose sono molto più riconoscibile nonché il corpo a volte quindi il nostro pensiero di fatti è unico è la parte veramente unica di noi e indica proprio la nostra unicità non c'è nessuno neanche un gemello che ha i stessi pensieri siamo veramente anime veramente uniche e questo è pure anche carino saperlo e essere sicuri che noi rimaniamo chi siamo per esempio i nostri ricordi come è stato questo caso della nostra gioventù possono riemergere i nostri pensieri il mio corpo mantiene ricordi sotto forma forse di cicatrici insomma ho cicatrici operazionali dove mi hanno operato però non ha un ricordo come la mente può avere un ricordo e quindi non è assolutamente uno non può paragonare cioè è come se io ho un vestito che ho a un certo punto strappato e ho ricucito lo strappo l'ho fatto correttamente e continuo a indossare questo vestito però non è che lo strappo abbia un ricordo io mi ricordo di come è avvenuto ma il vestito no e quindi sempre vedere che i nostri pensieri sono molto più noi la nostra identità nonché i capelli o qualsiasi forma fisica che noi possiamo avere no e quindi se consideriamo che ogni oggetto come questo computer per esempio che è una creazione abbastanza recente e che è sorprendente ed è complessa e poi non solo il computer ma anche diciamo l'internet è assolutamente una cosa nuova e tutto questo proviene dalla mente umana cioè la creatività dalla mente umana tendiamo perché non la vediamo c'è questa fregatura di non vedere le cose e quindi non pensarci se lo vedo ci penso e la nostra vita è connessa con le cose che vediamo invece mi ricordo in Francia quando ero bambina c'era un scrittore che diceva io penso quindi sono non mi ricordo chi era ero piccola all'epoca io penso quindi sono cioè ed effettivamente cioè all'epoca mi sono detto è carino come detto ma non realizzavo la profondità di questo detto effettivamente cioè noi siamo perché pensiamo e noi siamo in quel momento lì in quanto anime e il pensiero purtroppo tendiamo a non a non coltivarla più di tanto no e se noi capiamo veramente come funziona cioè noi facciamo nella Brahma Kumaris dei corsi sul pensiero perché per poter meditare decentemente se vogliamo e ci vuole molto allenamento per meditare veramente con una costanza cioè prima di tutto bisogna sapere come funziona e spesso questo non va indicato quindi i nostri pensieri cioè possono essere più o meno divisi in tre categorie ma molto semplice ci sono quelli positivi quelli negativi e quelli inutili perché inutili vuol dire che non ne facciamo nulla cioè sono dei pensieri che alla quale non possiamo fare niente e noi tendiamo ad avere molti pensieri inutili cioè i pensieri positivi li possiamo capire sono pensieri creativi qualche cosa che io faccio un pensiero di creatività eccetera qualche cosa di buono poi i pensieri negativi ovviamente sono totalmente il rovescio cioè il contrario e questi due pensieri viaggiano quindi le persone percepiscono sia il pensiero positivo che il pensiero negativo e possono reagire a questo invece il pensiero inutile e vi do un esempio cioè questa video che io ho guardato l'altro giorno che era questo video del Ganj e io lo guardavo perché c'era delle belle immagini del Ganj ed era durante il Kumbamera questa grande fiera raduno spirituale che fanno regolarmente ogni 13 anni e guardavo sto fiume scorre una marea di gente dall'altra parte che si faceva il bagno nel Ganj e io ero concentrato più che altro sulle immagini e il fiume che scorreva che era molto bello e poi il pensiero il mio pensiero si è fermato e si è fermato sulle persone che stavano lì a farsi il bagno e questo era forse due o tre settimane fa e il pensiero ha detto ma ragazzi cioè non ci avete la mascherina non vi separate cioè siete tutti ammucchiati vedrete che tra poco c'è un picco di covid questo era il mio pensiero e mi sono reso conto che questo anche se era un commento che potevo benissimo fare ma alla quale io non potevo fare nulla cioè non potevo fare niente di questo pensiero allora ho corretto questo pensiero dicendo vedrai che succede ovviamente un po' di giorni dopo purtroppo mi sembrava di aver avuto ragione cioè insomma ho avuto una reazione molto logica però anche se era logica era comprensibile non ne facevo nulla non è che io potevo fare niente tranne mandare buoni auguri e dire speriamo bene che la vostra fede vi possa coprire però la logica è la logica e una delle fregature del pensiero inutile è che mandiamo tanta energia perché il pensiero è anche energia ci costa energia ci vuole proprio un carburante se vogliamo col pensiero e il pensiero inutile è tipicamente il pensiero che tu non puoi mettere in pratica sono pensieri sulle nuvole che possono essere molto gradevoli allora in quel momento lì ti stai sostenendo e va bene con i tuoi pensieri ma se sono pensieri su altre persone come era proprio in quel momento lì dove io reagivo sul fatto che erano tutti lì ammucchiati e non sembravano ubbidire alle leggi le regole della covid mi sono perso un po' di tempo vedendo che io di fatti non era una responsabilità mia l'unica cosa che io potevo fare era mandare buoni auguri e che durante quel periodo dove io mi sono focalizzato sul pubblico sulla gente sulle immagini il fiume ha continuato a scorrere lui non si è fermato e mi sono detto questa è una lezione tu devi imparare a fermarti il meno possibile fermati vedi se puoi fare qualche cosa se è la tua responsabilità se è utile e se non lo è continua a scorrere e la nostra vita è in qualche modo i nostri pensieri sono in qualche modo un flusso che noi mandiamo ovunque andiamo c'è un flusso di pensiero che può andare verso familiari può andare in ufficio può andare verso la situazione che ci ha fatto il lockdown e tutte queste cose e il peggio è questa frustrazione perché non riesco ad avere un successo se io ho un pensiero devo creare questo devo fare questo quando l'ho fatto ho un successo cioè ho una soddisfazione molto profonda il problema è che in questi casi non hai nessuna successo e nessuna felicità perché tu non puoi farlo e quindi questo crea frustrazioni su frustrazioni ecco perché uno può sentirsi a forse di essere frustrati molto molto depressi insomma cioè quindi è utile sapere fino a che punto il mio pensiero può essere utile può essere fatibile è qualche cosa che io posso mettere in atto o no e se io non posso metterlo in atto è inutile mettermi martello in testa come si dice cioè veramente e dire c'è qualcuno che ci deve pensare buoni auguri a loro e tanto di energia positiva che loro riescono a farlo e basta tendiamo a prendere un sacco di responsabilità attraverso i nostri pensieri che non ci riguarda e questo è uno spreco una perdita enorme di energia e queste sono delle cose alle quali noi non pensiamo e delle situazioni nella quale cadiamo regolarmente perché regolarmente lo facciamo e quindi è sempre molto utile vedere cosa posso fare e do un altro esempio per far capire molto bene alla fermata dell'autobus a Roma gli autobus non arrivano sempre regolarmente e tu puoi aspettare un sacco di tempo e allora tu hai una scelta se l'autobus mette un sacco di tempo se tu ascolti intorno a te dove ci sono anche tante altre persone che aspettano l'autobus le senti gli autobus eccetera senti solo pensieri inutili e sprecati perché di fatti tu non ci puoi fare niente quando l'autobus arriverà arriverà allora tu hai scelta o c'hai tempo lo puoi aspettare non hai un orario particolare quindi aspetti tranquillo e mediti e rimani con la mente distaccata dalla situazione aspetti l'autobus e prendi l'utilità di questo momento che non avevi previsto per meditare e stare bene interiormente o allora fai una scelta hai fretta allora in quel momento lì prendi un taxi e fai questa scelta e agisci su questa scelta questo è un modo dinamico che è gestire la vita in modo dinamico l'altro modo è un po' da vittima quello che le cose esterne ti impongono ti lamenti ma non fai nulla forse non è utile fare nulla e va bene non è un problema ma utilizzi quel tempo in un modo benefico e questo dà molto più soddisfazione all'anima piuttosto che rimanere così a lamentarsi delle autobus di Roma per dire questa è un'idea quando noi capiamo perché a volte la sera ci sentiamo molto molto stanchi e non ce la facciamo più è è molto molto frustrante ed è molto comune perché lo facciamo tutti anche se sappiamo conosciamo le regole non vuol dire che non lo facciamo ma è utile quando conosciamo le regole diciamo la sera ah ma vedi quello che hai fatto beh adesso lo sai perché sei stanco allora prenditi una tisana e riposati cioè basta e uno non si mette problemi per questo e poi c'è anche il modo in cui il pensiero si evolve e lì parliamo di una una delle conoscenze base della nostra del nostro cammino spirituale e quello che noi diciamo mente l'intelletto e la quello che viene chiamato sansa che sono impronte di personalità o abitudini se vogliamo ed è un cerchio allora la prima cosa che noi a quale siamo consapevoli scusate è quando la lampadina si accende no? è come nei fumetti la lampadina si accende c'è l'idea allora l'idea è qualche cosa che sgorga e vedremo dopo da dove allora il pensiero sgorga è molto è unico cioè ognuno di noi pensa al modo suo e il pensiero la mente manda questo pensiero all'intelletto allora l'intelletto è la parte che ragiona la parte che in qualche modo è istruito che ha delle conoscenze che ha una certa maturità che ha imparato delle cose ma che ha anche incamerato usi sistemi culturali che possono essere pure religiosi che sono opinioni eccetera quindi l'intelletto in quel momento lì prende il pensiero lo giudica va va bene viene utilizzato va messo in pratica o viene considerato come una stupidata allora questo lo decide l'intelletto allora ammettiamo che l'intelletto decide di andare avanti si fa l'azione e quest'azione si iscrive all'interno dell'anima come una specie di memoria e diventa un'abitudine forse se viene ripetuta diventa un'abitudine e questo se vogliamo dire che è tutto registrato nell'anima pensiamo a un piccolo disco per esempio un cd qualche cosa così ovviamente che contiene tutto questo cd contiene tutte le mie memorie tutta la mia attività tutto quello che ho pensato il mio atteggiamento tutto quello che io di fatti ho fatto e certuni che sono diventati abitudini e certuni che sono diventati esperienze dolorose per esempio se un cane mi ha quando ero piccola un cane mi ha aggredito allora ovviamente questo sta tutto lì il mio pensiero prende nascita in questo disco quindi il pensiero emergere spontaneamente ma a partire dalle esperienze e delle abitudini di personalità quindi ammettiamo che io vedo un cane il mio pensiero forse non sarà uguale a qualcun altro certamente se io sono stata morsicata da un cane mi viene subito l'idea della paura del cane dove mi posso diciamo sfuggire nascondere altre persone possono avere una reazione totalmente diversa che diventa una personalità diversa perché è molto complessa tutto quello che è la fonte del nostro pensiero ecco perché siamo talmente diversi nel modo di pensare perché tutto quello che abbiamo registrato strada facendo nella nostra vita sta registrando registrato in questo cd e sono quello che noi chiamiamo le impronte di personalità ma non c'è solo una vita registrata l'anima con mente intelletto e sanscar va avanti allora la mente prende sempre spunta dal cd però l'intelletto è la parte di questo ciclo se vogliamo che evolve cioè io ad ogni nascita devo creare il mio intelletto devo studiare devo imparare quello che è pericoloso devo sapere quello che devo fare la mia cultura mi indica il modo di essere la mia religione indica forse un atteggiamento diverso da altre persone e quindi sono veramente una personalità molto molto complessa perché lì dentro ammettiamo che nel mio disco si sia registrato un'esperienza negativa nella vita precedente ammettiamo che sono morta anegata nella vita precedente e prendo apposito una esperienza negativa perché è più facile capirlo è chiaro che questo rimane nel mio disco nasco teoricamente non ho mai visto il mare i miei genitori d'estate mi portano al mare e ecco che io in acqua non ci voglio andare allora i genitori potrebbero pensare ma su capricci non è sempre un capriccio può essere un'esperienza cioè questo per esempio sapere questo è estremamente utile perché ci fa rendere conto che ovviamente siamo molto molto diversi e siamo diversi per per dei motivi molto chiari forse non per un capriccio e quindi un bambino che nasce nasce in questo modo dove c'è effettivamente una paura dell'acqua un rifiuto significa che va avvicinato all'acqua con lentezza con esperienze positive e qualche cosa che deve crescere verso una nuova comprensione dell'acqua e noi possiamo incidere sul disco qualche cosa di nuovo che cancella la vecchia esperienza negativa e questo è estremamente utile e importante ognuno di noi ha questi tipi di esperienze che possono fuoriuscire che non sembrano avere niente a che fare con la vita che abbiamo vissuto fino ad ora e questo per i genitori può essere sconvolgente un'esperienza pratica molto positiva per esempio un amico mio il suo figlio va dal padre e gli dice cioè un piccolo ci avrà avuto cinque anni una cosa così va dal padre e dice guarda papà il mio diki toy che era queste macchinette di metallo che tu spingi con la mano una cosa molto semplice sai che cammina da solo allora il padre era un po' sconvolto e dice insomma mio figlio normalmente non mente però insomma questo mi sembra un po' illogico segue il bambino in camera e vede che lui ha connesso la macchina con dei fili e una batteria e che la macchina avanzava lentamente 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 ma avanzava allora il padre era sconvolto perché lui stesso non ha capito come ha fatto il figlio non avrebbe potuto lui da adulto immaginare come connetteresti i fili con la batteria eccetera e invece il figlio l'ha fatto spontaneo e lui mi ha fatto una domanda di questo perché lo conoscevo bene ha detto ma tu hai una risposta a questo ho detto sì probabilmente vedrai che man mano che vai avanti ha una comprensione di queste cose qua che provengono da prima lui sconvolta prima ma prima dall'altra nascita non ti preoccupare beh anni dopo ho ritrovato quest'amico che mi fa sai adesso io ho un yacht e questo yacht viene guidato da un sistema satellitare molto complesso ci capisco niente però il mio figlio che a quel momento lì aveva 14 anni capiva al modo suo e il padre gli diceva guarda stai attento riflettici bene concentrati e dimmi dove devo spinge e il figlio lo diceva e lui accendeva cioè lui visibilmente in una vita prima è stato ingegnere forse noi portiamo cioè i bambini prodigi hanno una conoscenza precedente di quello che stanno facendo Mozart era tipicamente così quindi noi siamo degli esseri affascinanti ma molto complessi e quindi bisogna sempre tenere aperto quello che può avere provocato questo comportamento questa cosa che uno sa da dove lo sa non bisogna forse sorprendersi perché in questo disco come dicevo questo disco contiene delle informazioni che noi alla quale non abbiamo accesso in questa vita e quindi possiamo solo forse percepirlo e molto spesso dopo un po' questa percezione particolare scompare e l'interesse di una vita precedente scompare con la vita nuova che è molto più ovviamente molto più affascinante e quindi noi tendiamo quindi a dimenticare con una certa età quando cresciamo da bambino dimentichiamo queste esperienze e il disco si riprogramma con la vita presente quindi il pensiero sapere da dove viene che viene da dentro di noi ovviamente le cose che noi vediamo fuori mi possono creare pensieri mi possono creare ricordi è molto carino questo mi possono creare buoni ricordi e ricordi meno buoni però questa idea del ganj che scorre e che porta il mio pensiero lontano lì dove va mi dà anche molta soddisfazione perché noi parliamo di servizio attraverso la mente come possiamo noi fare del bene solo con il nostro pensiero e ovviamente meditando cioè perché se noi dirigiamo il nostro pensiero e rendiamo il nostro pensiero potente con l'aiuto dell'anima suprema e che noi vogliamo mandare un pensiero di pace e di tranquillità e di serenità in un paese sconvolto dove c'è sofferenza eccetera lo possiamo fare e più noi siamo totalmente puri quando dico puro non abbiamo nessun interesse particolare non c'è un sentimento di attaccamento o di guadagno in questo c'è sempre semplicemente un sentimento dal cuore e noi possiamo fare qualche cosa e lo trovo molto stimolante questo cioè non è che solo meditiamo per noi perché se io non medito per me non sono utile neppure per gli altri devo prima di tutto stare bene io perché se io non sto bene i miei pensieri non staranno bene quindi non aiuteranno nessuno devo prima di tutto aiutare me questo è evidente e sembra così egoista l'egoismo non è cioè a volte non abbiamo abbiamo saltato un passo da qualche parte perché tu non puoi dare quello che tu non hai e è finto in quel caso se tu non hai pace dentro come fai a mandare col flusso del tuo pensiero pace agli altri come fai puoi mandare buoni auguri potresti mandare sentimenti di che sono di pietà ma la pietà non è non solleva l'altro non è talmente positivo è un dolore dalla parte mia vedendo l'altro e dolore sul dolore crea solo dolore cioè devo avere il coraggio in qualche modo di non lasciarmi toccare dalla sofferenza dell'altro e se la persona mi è caro se mi è vicino è difficile non avere questa forma di sofferenza ma se io soffro faccio soffrire ancora di più chi soffre perché lui sa o lei sa che fa soffrire me e quindi è ancora più doloroso ecco perché questa forma di distacco che sembra benefreghismo ma non lo è è un distacco perché io voglio il tuo bene voglio il tuo bene perché ti voglio bene e quindi non ti appesentisco dalla mia sofferenza perché tu stai male e questo richiede una decisione interiore di essere autonomi di non dipendere e di accettare questo ruolo che è un ruolo quasi di distacco totalmente di distacco dove tu puoi in quel momento lì dare tutto il bene che tu senti perché non è non ha l'ombra dell'attaccamento l'ombra di una personale richiesta e quindi queste sono delle cose che volevo dire e adesso non so se voi avete delle domande però io adesso faccio una meditazione perché noi cioè io cerco sempre di concludere con un po' di meditazione sì e sì sì noi sappiamo certe cose ma non abbiamo la spiegazione chiara no cioè è vero però adesso io ho cercato di spiegare un po' perché la base per meditare correttamente è sapere cosa stiamo facendo se no la mente va e così come va va e tu non sai se il frutto sarà buono o no quindi ci sono certe piccole cose che bisogna non è molto complicato però insomma piccole cose che bisogna considerare e quindi adesso vorrei meditare un po' di minuti con voi per darvi l'idea di questo flusso del pensiero come dicevo questo ganj che mi ha affascinato perché scorreva così veloce entro nel mio silenzio ascolto la mia mente la dirigo accumulo tutto il bene i pensieri positivi i buoni auguri e le offro all'anima suprema così possono ricevere energia e potere e lascio questi pensieri scorrere verso chi ne ha bisogno il mio cuore è aperto non aspetta niente in ritorno il dare è sempre soddisfacente perché il ciclo positivo stimola il positivo è un flusso se do a positività col tempo mi ritorna a positività il dare è una fortuna contrasta l'egoismo e penso al mio fiume che scorre creativamente verso coloro che soffrono verso i malati verso gli oppressi senza soffermarmi è un innaffiare costante non ho bisogno di ricordare la persona è come una dedica il mio pensiero continua a fluire e sento fortemente la presenza dell'anima suprema che da potere ai miei pensieri le rende più puri più benevoli e mi rendo conto che nel dare ho ricevuto tanto senza sapere chi queste goccioline sono andate a soddisfare la sete di pace verso coloro che ne avevano bisogno un gesto umano un gesto di fratellanza om shanti ecco allora sto leggendo esattamente è stato molto utile la tua lezione grazie Danuta perché sai l'importante è di essere utili cioè di lasciare qualche cosa che la gente dopo di che può utilizzare a casa insomma quindi ecco e sì è una filosofia antica sì è una realtà sì ed è vero cioè io mi dispiace molto cioè a volte non parlo molto chiaramente perché insomma c'ho dei problemi di dente in questo momento però effettivamente cioè se sono chiara cioè meno male insomma ho sempre paura di non pronunciare accuratamente ecco allora non ci sono domande sembra che ci sono contenti persone contenti io sono contenta quindi io vi saluto e vi dico buona cena e buona serata quindi e grazie a voi ecco ciao grazie a tutti